Che bello abbiamo appena finito di registrare il pack opening e la reflex si è bloccata praticamente mentre noi firmavamo il video si è bloccata abbiamo potuto staccare la spina abbiamo riacceso e abbiamo visto che non c'era più tutto il video Abbiamo staccato la spina Comunque non c'è il video quindi sentite soltanto l'audio e il gameplay e niente ci dispiace tantissimo anche a noi perchè è anche un bel pack opening perciò guardatelo perchè troviamo anche un bel giocatorino Quindi ragazzi guardatevi sto video e noi ci ripetiamo al prossimo pack opening Con la facecam Con la video Con la video Bella vecchia di Ravani siamo in Granas e siamo tornati con un nuovo pack opening finalmente perchè è uscita la Liga Tots e quindi non possiamo esimerci dall'aprire i pacchetti rimasti Esatto si vai subito col primo pacchetto oggi devono per forza trovare qualcosa perchè si Ma si che troviamo qualcosa dai Dai subito con Maggio Quanto è che si vede in campo Maggio? Un pacchetto ce lo dà 500.000 rimasti Ci siamo Ci siamo Nooo Carrillo Da spesa Rafinha Dai dai non ci perdiamo i chiacchiere Su 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 giù 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 Che poteva fare il triplete per la seconda volta Un gaga gazz 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 Attenzio Oddio Cavani Oh Porca puttana Magari non vale il cazzo Probabile 10.000 Non vale il cazzo Però probabilmente si venga più facilmente di un Tots Si Però è poco come si Dai kitz 10.000 con te Però dai ma cavani non mi può valere così poco Un cazzo Vabbè vai Vai Oh Oh Vai Lucas Vai Stora è baggato un culo Ci Vai vai Questa porta fortuna Questa porta fortuna Porta fortuna Oddio pensavo che era di Maria Oddio Mannaggia ti rogo De merda Sto infatti è uguale Quello si mi pareva Menzione Eccolo Oh C'è sta Porca troia Pensavo che era Benzema Vabbè tant'ora e Benzema non vale il cazzo Ci fanno crede Però vedi Avamo messo Real Paris Angelman e Manchester C'è tutte ce stanno Anche tu il Barcellona Barcellona Messi Che sta da un altro Messi Ma si Ma si Vale a Ballotelli Dai tu le sacco Vai Eden Vai Edel 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 Con le manne con i piedi Attenzione Oh Ma ci mancava al Bayern Oh Jackson Martinez Barcellona Ecco il Barcellona Ecco E' qua Messi Toz E' qua Io vorrei se non lo vendemo Messi Toz E' qua Voglio vedere E' qua Voglio vedere E' qua E' qua pure lo Spartak Mosca Vediamo Vediamo A scherzo di equivolo Dai che è questo E' questo Sì Mancava il Wolfsburg Il Burdisso Ancora come la mania da Roma Da paura E' su Sni Ecco lo Real Che già ce l'avevamo Tensione C'è la tensione Nell'area Perché Non troveremo E' assolutamente Nessuno In questo Pacchetto Bravo Vedi che l'ho dopo trovato Con il Barcellona Mamma mia 90 Ma quanto cazzo è forte Porca puttana No aspetta Cioè dimmi che vale tanto Non vale il cazzo Ma Cioè famose la Liga Bravo 90 A parte da giocare sempre Del Stegno Perché è bravo Toz Vabbè lo deniamo È bravo toz Il campionato È solo bravo Vabbè comunque Bravo è figo 90 però Non vale il cazzo Quindi Vabbè si accontentano Lo saluteremo Se fa male Ah cap Devi dire che non troveremo Assolutamente un cazzo Non troveremo assolutamente un cazzo Un cazzo Un cazzo Vedi Vabbè ragione Tu si capito In vilare Già non è metodo squadra Che è uno che vive con il bumbizze È a me dove In la vita Ma perché Ma perché ste cose Mamma mia Dai vai che ti ritrovo bravo Dai Vai vai Stai non trovo nessuno Io lo so Schifo Lo schifo Ronaldo Mai 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 Ma infatti Abbiamo detto Però Zanetti è diventato leggenda Perché non gioca più Beh è andato pure uno spazio Zanetti Che cazzo vuoi È uguale Vabbè comunque Tanto la capirà nessuno sta battuta Comunque Non trovo nessuno Come al solito E Tony diventa Capocano ieri Tony Toz Voglio trovare Ma ancora l'uscita Che non ha mai giocato Quest'anno Mai L'ha fatta la web Da serie a Scusate Tranquillo 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 Sezione Sezione Debrune Vabbè Che che Debrun Debrun Oh 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 ora abbiamo a lavorare ho un paolo ho lavorato a mario perché ma no ma il fratello non puoi ma perché c'è la madre immigrata attenzione attenzione c'è c'è chi nessuno non c'è nessuno l'altro penultimo pacchetto questo è ciò per avere negatomo ultimo pacchetto ultimo pacchetto incredibile fanta ultimo si deve trovare un toz bravo toz lo ricordiamo lo ricordiamo bravo toz inimitabile se non c'è un pronato non mi farebbe schifo l'amma l'amma vale oh close l'amma vale ma close filmate per un po' l'amma guarda te la butto là massimo 12.000 50.000 massimo 12.000 ma che cazzo stai a dire va bene ragazzi comunque diciamo che può andare bene come cosa come pack opening perché abbiamo trovato bravo se vi è piaciuto questo e volete vedere un altro lasciamo 10.000 like dobbiamo arrivare per bravo toz noi ci becchiamo al prossimo video bella stiamo facendo un video bravo